Io credo che la squadra non sia mai stata messa in dubbio da nessuno. Parole nette, quelle di Francesco Acquaroli che provano a mettere la parola fine ai venti di rimpasto di giunta, alimentati da due settimane dalla Lega e in particolare dalla segretaria regionale Giorgia Latini, ex assessora regionale, che per esigenze di partito avrebbe gradito l'avvicendamento dei tre assessori del Carroccio, da Filippo Saltamartini fino a Chiara Biondi e Andrea Antonini, tra l'altro subentrate a legislatura in corso. Assessore che Acquaroli ha difeso e dopo due settimane di consultazioni, si sarebbe arrivati ad una mediazione con la Lega che otterrebbe un tecnico specializzato sulla sanità. Non vedo problemi di nessuna tontura, vedo veramente una squadra che vuole impegnarsi nel pratico per dare le risposte. In un momento dove ci sono in atto due guerre e delle crisi internazionali geopolitiche molto forti, c'è un'inflazione, c'è il costo dell'energia, il costo delle materie prime, il costo del gasolio, della benzina, che tocca in tante regioni, per fortuna nella nostra regione siamo sotto i due euro, ma in tante regioni ha superato addirittura i due euro, credo che tutti noi dobbiamo animare e concentrati su quelle che sono le priorità. E al di là di quelle che possono essere state le battute e delle situazioni, tutti abbiamo continuato sempre a lavorare per la nostra regione.